Gli applausi di un teatro sperimentale stracolmo acclamano Milagnerò Tacendo. Titolo dello spettacolo lirico-sinfonico confezionato dal Conservatorio Rossini come perfetto regalo di non compleanno a Giochino Rossini nella sera del 28 febbraio. Un concerto ideato dal direttore del Conservatorio Fabio Masini che ha invitato Elio delle Storie Tese come perfetto interprete per far sconfinare la musica classica in un repertorio giocoso ed espressivo. Elio che è entrato in punta di piedi sulle revisioni in stili diversi di undici brani tratti dai pescè dei vieglies di Rossini tra cui l'ironico appunto Milagnerò Tacendo. La dolce melodia dei freni. Arrivati in stazione. I leoni parigini offrono la mano alle cerbiatte per aiutarle a scendere dal vagone. del segmento preferred. Come si love S. I don't know that way. I am sorry, I am sorry maybe one idea for a secca. I am sorry, I am sorry, I am sorry. I am sorry, I am sorry. L'orchestra del Conservatorio diretta da Luca Ferrara ha visto prendere parte al concerto i compositori Federico Augusto Agostinelli, Paolo Boggio, Filippo Caramazza, Delila Gutmann, Mauro Ferrante, Daniele Gasparini, Lamberto Lugli, Michele Mangani, Aurelio Samori, Mario Totaro e lo stesso direttore Fabio Masini. Il Rossini Opera Festival vi ha aggiunto due suoi giovani cantanti come Pietro Daini e Chiara Tirotta. Elio, al secolo Stefano Belisari, si è invece riappropriato di un suo vecchio legame con Rossini, determinante per gli ultimi anni della sua carriera. Sono già stato qui varie volte e come ho detto 25 anni fa è stata la volta più significativa perché partecipando al ROF ho un pochino scelto poi di intraprendere un'altra strada che continua ancora oggi. Elio nel pomeriggio aveva preso parte anche all'inaugurazione dell'anno accademico del Conservatorio Rossini con 700 studenti che animeranno il 140esimo anno della storica istituzione cittadina. Credo che sia un momento importante perché diamo vita ad un anno accademico straordinario, il 2022-23, e il 140esimo della fondazione del Conservatorio Rossini ed è anche un momento magico da un punto di vista di restituzione della bellezza alla città di Pesaro perché abbiamo avuto un importante finanziamento grazie alla coralità, all'impegno congiunto di tutti i soggetti coinvolti, Conservatorio, Comune di Pesaro e Fondazione e quindi posso anticipare che a breve indiremo la gara tramite la provincia per mettere a nuovo per quello che è possibile il Conservatorio Rossini.